sul tratto già fatto secondo me non si può tornare indietro piace alle persone alla fine la persona che va a spasso percire piace anche a me sull'idea di pedionalizzare l'intera via sono perplesso perché comunque diventa un problema gestirlo anche perché non ci sono gli spazi poi per far sostare auto nella zona se togliamo questi parcheggi qua non ce ne sono più altre la gente comunque apprezza la pedionalizzazione si può dare in più il problema sarebbe un po' d'inverno dove per la fine c'è un pochino meno gente quindi si fa un po più fatica più che altro non sappiamo la fine dei lavori quindi vorrebbe dire che se continuano così arriviamo alla fine del start e quindi con il rincarico il discorso i lavori forse era il momento un pochino meno adatto però sperando che le cose vadano bene grazie a tutti Grazie a tutti.